Il fiume Nilo, conosciuto come la fonte della vita nell'antico Egitto e uno dei fiumi più lunghi del mondo, è stato per millenni un'importante fonte di sostentamento e arricchimento culturale. Tuttavia, recenti rapporti hanno rivelato che il possente fiume Nilo si è finalmente prosciugato, il che è un evento catastrofico. Anche se può sembrare inimmaginabile, ciò ha portato allo sviluppo di qualcosa prima sconosciuto al mondo. Il fiume Nilo è stato a lungo considerato la culla della civiltà grazie al suo ruolo vitale nello sviluppo dell'antico Egitto. Estendendosi per 6.650 chilometri attraverso 11 paesi africani, questo enorme corso d'acqua è stato una fonte cruciale di vita e prosperità per innumerevoli generazioni. Nel corso della storia, il Nilo ha modellato non solo il paesaggio ma anche le società che da esso dipendono. Per comprendere l'importanza storica del fiume Nilo, dobbiamo prima riconoscere il ruolo centrale che ha svolto nella crescita e nella stabilità dell'antico Egitto. Il Nilo fu fondamentale per lo sviluppo dell'antica società egiziana, fornendo una fonte affidabile di acqua e terreno fertile per l'agricoltura. Ciò ha consentito la formazione di città e la crescita del commercio e della cultura. Inoltre, il fiume era un'importante via di trasporto che incoraggiava lo scambio di idee e pratiche culturali con altre civiltà. Gli antichi egizi consideravano il Nilo un dono divino degli dèi, e questo si rifletteva in molte delle loro pratiche e rituali religiosi, come le cerimonie annuali delle inondazioni. Il Nilo è stato fondamentale per la costruzione di monumenti iconici, come le piramidi di Gizza e i templi di Luxor e Karnak. Inoltre il fiume ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'Africa come fonte d'acqua e confine naturale. Ha influenzato la distribuzione e lo sviluppo di diverse civiltà, tra cui il regno nubiano di Kush e il regno etiope di Axum. La costruzione della diga di Aswan negli anni Sessanta ebbe un impatto significativo sul flusso del Nilo e sulle popolazioni che vivevano nella zona. La diga sul Nilo consentiva il controllo dell'acqua per l'energia elettrica e l'Irria. irrigazione, ma provocò anche lo sfollamento di comunità e la perdita di importanti siti archeologici. Questa infrastruttura è stata oggetto di dibattito e controversia nel corso degli anni a causa del suo impatto sociale, economico e ambientale. L'attuale situazione del fiume Nilo e la sua siccità ricordano l'importanza di bilanciare lo sviluppo umano con la conservazione delle risorse naturali. Il fiume è stato importante fin dall'antico Egitto e ha facilitato il sostentamento. Il commercio e la comunicazione. La recente siccità ha sollevato preoccupazioni sul futuro della regione che dipendeva dal fiume. L'importanza storica del Nilo è innegabile. Piche è stato vitale per lo sviluppo di numerose civiltà e ha lasciato un segno indelebile nel paesaggio e nelle persone. Il fiume Nilo è stato fonte di ispirazione per l'architettura. La religione e la storia ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo politico ed economico della regione. La recente siccità ha sollevato preoccupazioni sul futuro della regione. Il suo declino è attribuito a una combinazione di fattori ambientali come il cambiamento climatico. L'aumento delle temperature e le siccità più frequenti hanno ridotto la quantità di acqua che entra nel sistema fluviale, mentre la diminuzione delle precipitazioni ha ulteriormente esacerbato la riduzione del flusso d'acqua. Sebbene il futuro del Nilo sia incerto, il suo passato rimane una ricca storia umana che risuona nel mondo di oggi. La crescente domanda di acqua da parte degli 11 paesi che si affacciano sul Nilo ha contribuito alla sua siccità. La rapida urbanizzazione, industrializzazione e crescita demografica hanno esercitato ulteriore pressione sulle limitate risorse idriche del bacino del Nilo. I prelievi idrici per l'irrigazione rappresentano una parte importante del consumo idrico. Inoltre, la costruzione di dighe e altri progetti di infrastrutture idriche lungo il fiume hanno avuto conseguenze, indesiderate sull'ecosistema e sull'equilibrio idrologico del fiume. Sebbene forniscano anche importanti vantaggi come il controllo delle inondazioni e la produzione di energia idroelettrica, la diga di Aswan e la diga rinascimentale etiope hanno ridotto il flusso del Nilo e ci sono preoccupazioni circa. L'impatto della diga etiope sulla disponibilità di acqua a valle. Anche la deforestazione e il degrado del territorio hanno contribuito al declino del Nilo e l'inquinamento è un altro fattore che ha colpito il fiume. La siccità del fiume Nilo è causata da una serie di fattori ambientali, come il cambiamento climatico, la domanda di acqua, la costruzione di dighe, la deforestazione, l'inquinamento e lo sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee. Questi problemi influiscono sulla qualità e sulla quantità dell'acqua dei fiumi, mettendo in pericolo la vita acquatica e la salute umana. La soluzione a questo problema richiede sforzi collettivi per proteggere e preservare l'ambiente. La siccità del Nilo ha gravi conseguenze sull'agricoltura, sulla salute pubblica e sull'economia della regione ed è essenziale affrontarla per proteggere i mezzi di sussistenza e, la sicurezza idrica di milioni di persone. La siccità del Nilo sta colpendo gravemente l'agricoltura e la sicurezza idrica nella regione. L'agricoltura è essenziale per il sostentamento di molte persone nel bacino del Nilo, ma la scarsità d'acqua ha ridotto la produttività agricola e ha aumentato il rischio di insicurezza alimentare e malnutrizione. Inoltre, l'accesso all'acqua pulita e sicura è diventato più difficile a causa della ridotta portata dei fiumi, aumentando il rischio di malattie trasmesse dall'acqua e problemi di igiene. La riduzione del flusso del Nilo pone gravi sfide alla sopravvivenza e al benessere di milioni di persone nella regione. La siccità del Nilo ha influenzato negativamente l'economia della regione. La diminuzione della produttività agricola e la ridotta disponibilità di acqua hanno avuto un impatto negativo, sulle catene di approvvigionamento alimentare e sulle operazioni, delle industrie dipendenti dal fiume, contribuendo alla recessione economica e all'aumento della disoccupazione. Inoltre, la siccità ha intensificato le tensioni e i conflitti tra i paesi rivieraschi sull'accesso alle risorse del Nilo, come la controversa diga della grande diga rinascimentale etiope. L'esaurimento del Nilo ha avuto conseguenze ecologiche significative e colpisce i mezzi di sussistenza delle comunità che dipendono dalle risorse del fiume per la pesca, il turismo e altre attività. La mancanza di sedimenti ha portato all'erosione del suolo e alla perdita di terreni fertili, che hanno ulteriormente minato la produttività agricola e contribuito al degrado del suolo. Le conseguenze immediate sono profonde e colpiscono tutti gli aspetti della vita nella regione, dall'agricoltura e la sicurezza idrica alla salute pubblica, alla stabilità economica e alle questioni regionali. Il prosciugamento del Nilo ha rivelato tesori nascosti sotto il suo letto, suscitando interesse per la storia e l'archeologia della regione. Il ritirarsi delle acque ha rivelato possibili insediamenti antichi e manufatti sommersi o sepolti. Questi reperti archeologici hanno il potenziale per gettare nuova luce sulla storia e sulla cultura delle antiche, civiltà che prosperarono lungo il Nilo. Nel fiume Nilo sono state rinvenute antiche tombe, templi, statue, barche e manufatti di uso quotidiano che rivelano informazioni sulla vita e sui costumi delle civiltà che vivevano lungo il fiume. L'esame di questi manufatti fornisce preziose informazioni sulle credenze, i rituali e i costumi di queste civiltà, oltre ad aiutare a ricostruire i sistemi economici, sociali e culturali che hanno plasmato la regione e i suoi abitanti. Inoltre, lo studio di questi manufatti può ispirare nuove strategie sostenibili per l'architettura e l'ingegneria mentre il mondo è alle prese con le conseguenze del prosciugamento del fiume Nilo.Le scoperte emerse dal letto del fiume offrono un raggio di speranza. Nuovi tesori ritrovati nella regione offrono una grande opportunità per approfondire la storia e il patrimonio culturale della zona. La conoscenza acquisita può non solo migliorare la nostra comprensione del passato, ma anche ispirare soluzioni innovative per il futuro. I risultati possono stimolare il turismo nella regione e contribuire all'economia locale, oltre a fornire risorse per la conservazione e ulteriori ricerche. Le scoperte hanno avuto un impatto globale significativo, catturando l'immaginazione delle persone di tutto il mondo e suscitando un rinnovato interesse per la storia, la cultura e l'archeologia della regione. Inoltre, i risultati hanno implicazioni di vasta portata per la nostra comprensione del passato e del futuro in campi, quali la scienza, la tecnologia e la conservazione culturale. Archeologi e storici possono acquisire preziose informazioni sulla vita delle persone che hanno abitato la regione, nel corso dei secoli, sfidando le narrazioni storiche esistenti e facendo luce sulla complessa interazione di culture, commercio e politica che ha modellato il bacino del fiume Nilo e i suoi abitanti. Esiste anche il potenziale per ispirare l'innovazione in vari campi scientifici e tecnologici, come lo studio di antichi sistemi di gestione dell'acqua che potrebbero essere applicati alle sfide contemporanee, nonché nuove tecniche di costruzione rispettose dell'ambiente per l'architettura e l'ingegneria. Le nuove scoperte nel fiume Nilo hanno un grande impatto globale, consentono una maggiore comprensione della storia e della cultura della regione e possono ispirare soluzioni innovative per il futuro. I risultati possono anche stimolare il turismo, sostenere l'economia locale e la conservazione. Inoltre, la collaborazione internazionale dei ricercatori può favorire lo scambio di conoscenze e il progresso della conoscenza scientifica. Può anche aumentare la consapevolezza globale dell'importanza di preservare il patrimonio culturale. In breve, questi risultati sfidano il passato, ispirano l'innovazione e promuovono l'importanza di preservare il nostro patrimonio culturale condiviso. Le sorprendenti scoperte sotto il letto del fiume Nilo hanno un impatto globale che abbraccia questioni come la conservazione culturale, lo sviluppo sostenibile e la collaborazione internazionale. La regione del Nilo si trova ad affrontare sfide urgenti, tra cui la carenza d'acqua dovuta al prosciugamento del fiume. Per affrontare questo problema, i governi, le organizzazioni internazionali e le comunità locali devono lavorare, per sviluppare soluzioni, innovative e sostenibili, come investire in tecnologie per il risparmio idrico ed esplorare fonti idriche alternative. La cooperazione tra i paesi rivieraschi sarà fondamentale per garantire un accesso equo alle risorse idriche e, sviluppare una visione condivisa per il futuro del Nilo. Il declino del fiume Nilo presenta sfide e opportunità per la regione. La scarsità d'acqua richiede soluzioni sostenibili e l'adozione di pratiche agricole resilienti al clima. Le scoperte archeologiche possono stimolare il turismo e creare posti di lavoro. Inoltre, la regione può trarre vantaggio dalle conoscenze acquisite per far avanzare la scienza e la tecnologia. La cooperazione regionale e la promozione della comprensione interculturale sono essenziali per un futuro, prospero e sostenibile. L'evoluzione della regione del Nilo dimostra la resilienza e l'ingegnosità umana.